Novità dal codice della strada, da giorno 22 i ragazzi che hanno compiuto i 17 anni potranno mettersi alla guida di un'automobile. Sono sempre sotto osservazione la cattedrale di Agrigento e il costone su cui si erge. Nei giorni scorsi sono stati avviati e curati sondaggi a breve risultati. Illustrati questa mattina nei locali della scuola media Castagnolo e dettagli dei lavori di adeguamento e abbattimento di barriere architettoniche. E di 600 milioni di euro l'importo delle fatture FAS scoperte in provincia di Milano dai finanzieri del comando provinciale. Un cordiale benvenuto gentili telespettatori all'informazione di Agrigento TV. Lo avete sentito dai titoli. Novità dal codice della strada, da giorno 22 i ragazzi che hanno compiuto i 17 anni di età potranno mettersi alla guida di un'automobile. Dettagli nel servizio, vediamolo. Se una volta per guidare la macchina era necessario il raggiungimento della maggiore età, ovvero aver compiuto i 18 anni, adesso non è più così. Infatti è stato pubblicato nella gazzetta ufficiale il regolamento su una delle novità più attese introdotte dal codice della strada, varato nel 2010. Si tratta della cosiddetta guida accompagnata, che a partire da giorno 22 aprile consentirà ai 17 anni di esercitarsi un anno prima nella guida di un'automobile in vista del conseguimento della patente B. Possono richiedere l'autorizzazione alla guida accompagnata coloro che sono però in possesso di patente A in corso di validità, sulla quale non gravano provvedimenti di revoca o sospensione. Accanto ai giovani autisti possono essere designati fino a tre accompagnatori che devono avere un'età non superiore a 60 anni e devono essere titolari da almeno 10 anni di patente B o superiore, con esclusione di quelle speciali in corso di validità. Secondo un sondaggio condotto dalle nostre telecamere in giro per la città, sono molti giovani favorevoli a questa novità. Si potrebbe anche fare, perché alla fin fine se è accanto a qualcuno che ha una minima esperienza nella guida, non penso ci sia qualche pericolo. L'importante è che frequentino la scuola guida, che guidano prudentemente e che non causano soprattutto incidenti. Io sono d'accordo, in fondo in America si guida a 16 anni, perciò sono d'accordo, che c'è di male. Meglio, meglio così. Cioè alla fine guidiamo prima, quindi maturiamo prima. A 18 anni per me è meglio che la guidano la macchina, perché così hanno un anno di più di esperienza. Per me a 18 anni è meglio. In merito al nuovo articolo introdotto dal codice della strada arrivano dei consigli da parte della polizia stradale. I consigli sono sempre gli stessi e sono sempre i soliti e sono quelli che hanno una base. La strada è il luogo più pericoloso che abbiamo e lo ripeto sempre e lo continuo a ripetere finché qualcuno, e che tutti ci convinciamo, insomma qualcuno che non è convinto se ne convinca anche lui. Per cui un ragazzo che si mette alla guida di un'automobile deve sapere che corre qualche rischio in più e che soprattutto fa corre qualche rischio in più agli altri. Per cui è chiaro che naturalmente deve sapere di portare un mezzo più potente della minicarra che oggi già può condurre, come sappiamo, a 14 anni, e che per tale motivo dovrà avere molta prudenza e dovrà cominciare a capire, questo è il senso della legge, cominciare a capire che naturalmente dovrà rispettare tutta la segnaletica, la regolamentazione che c'è nel circolare, in modo tale appunto da non creare pericoli e non crearsi inutili conseguenze dannose per se stesso. Attenzione però, chi volesse già approfittare di questa possibilità dovrà prima presentare agli uffici della motorizzazione civile competente per territorio un'istanza per l'autorizzazione alla guida accompagnata firmata ad un genitore. L'ufficio, effettuate le verifiche, rilascerà una ricevuta di presentazione dell'istanza che consentirà al minore di iscriversi ad un corso di formazione propedeutica alla guida accompagnata presso le autoscuole. Al termine del corso, l'autoscuola consegnerà al minore un attestato di frequenza che va presentato alla motorizzazione, che rilascerà finalmente l'autorizzazione con cui l'aspirante patentato si potrà esercitare. La vettura impiegata nell'esercitazione deve essere munita sia all'anteriore che al posteriore di un contrassegno recante le lettere GA, acronimo di guida accompagnata, di colore nero su fondo giallo retro riflettente. Comunque che l'approccio alla guida inizia a 17 o 18 anni poco conta. La cosa più importante è seguire i principi della massima prudenza per non arrecare danni a sé o ad altri. E voltiamo pagina. Sono sempre sotto osservazione la cattedrale di Agrigento e il costone su cui si erge. Nei giorni scorsi sono stati avviati accurati i sondaggi. Entro giugno gli esiti degli esami specialistici ed entro autunno invece la conclusione della fase di indagine. Ci dice di più Chiara Mangione. Prosegue a ritmo incessante il monitoraggio della cattedrale di San Gerlando che dovrebbe protrarsi fino al prossimo autunno. Un'attività di accurati sondaggi a cui in questi giorni si è aggiunta una serie di indagini fisiche e sismiche sul pendio su cui si erge il Duomo in modo da valutarne le condizioni di stabilità. Tipologia di sondaggio già avviato all'interno della struttura. L'attività condotta dai tecnici del Dipartimento regionale della protezione civile è tesa a stabilire quali siano le cause relativa a natura del movimento che interessa il costone. Solo dopo questa fase di accertamento si potrà passare a quella operativa degli interventi sul costone e sulla cattedrale all'interno della quale nella navata centrale si erano registrate nei mesi scorsi diverse lesioni e crepe frutto di cosiddetti dissesti da richiamo cioè fessure che si sarebbero aperte a causa delle crepe esistenti nella navata nord quella che rischia di scivolare a valle lungo il costone. Per l'intervento di palificazione o terrazzamento del pendio sono già stati previsti dalla regione 20 milioni di euro circa ma altre somme sono necessarie per la sistemazione della cattedrale. Una possibile soluzione resta quella di isolare la navata nord e quindi smontare parzialmente lo storico stabile in modo da effettuare i lavori e poi proseguire con le indagini sulla collina per intervenire definitivamente sul problema che evidentemente ha la sua origine nel sottosuolo. Già nel 1978 si intervenne in tal senso quando si dovettero eseguire alcune opere per frenare il movimento verso valle del complesso edilizio di San Gerlando. La cattedrale di Agrigento fu costruita per due terzi su terraferma per un terzo quello appunto della navata nord su un terreno di argilla. La poca stabilità del versante settentrionale lo si conosceva bene anche nella prima metà del nostro secolo quando fu presa la decisione di abbattere la torre Lauricella con l'esigenza di rinforzare il lato nord del luogo di culto un rischio crollo che esiste da secoli molto prima della frana del 66 forse condizione imprescindibile per la costruzione della cattedrale normanna sarebbe dovuta essere la consulenza di un geologo. Passiamo adesso alla politica nuovo confronto tra i candidati a sindaco di Agrigento questa mattina all'interno dell'istituto IPA Fermi hanno incontrato i giovani per discutere delle problematiche che riguardano il mondo degli studenti universitari all'incontro erano presenti però solo 3 dei 5 candidati e cioè Giampiero Carta, Mariella Lobello e Totò Pennica il confronto è stato moderato dal giornalista Totò Frequente per adesso vi mostriamo soltanto uno stralcio delle interviste mentre questa sera alla Tg delle 20 di Agrigento TV potrete vedere tutto adesso vediamo uno stralcio di interviste da parte degli studenti universitari non vi è che ci sia grandissima partecipazione ed è il segno di una politica che è in crisi io agli studenti universitari vorrei parlare anche della forte idealità della politica la politica non è tutta uguale ma dobbiamo recuperare le ragioni di un impegno oggi il tema che abbiamo affrontato è quello dell'università l'università ha bisogno di interrompere quello che è stato fino a oggi il circolo vizioso che ha visto la politica utilizzarla nuovamente come un contenitore di sottogoverno noi pensiamo che l'università di Agrigento fuori dal consorzio diventi effettivamente un polo decentrato dell'Ateneo Palermitano è l'unica cosa che può dare uno sviluppo all'offerta formativa e renderla decente altrimenti rimarrebbe esclusivamente un parcheggio per chi ha delle difficoltà economiche a mandare il proprio figlio in un'università più qualificata e ritiene che l'Ateneo Agrigentino possa comunque consentire di acquisire un titolo accademico questo però purtroppo crea una fabbrica di disoccupati non crea nemmeno una sinergia che noi vorremmo con la possibilità di sviluppo economico da dare a questa città utilizzando anche le risorse del centro storico abbinate a quella dell'università Quest'incontro con i ragazzi del polo universitario pongono al centro del nostro confronto i problemi degli studenti e dentro il programma le risposte possibili che ogni candidato ha dato e crediamo che il polo universitario debba da un lato lo crediamo come formazione lo credo come candidato debba tornare il polo universitario dentro la città guardando agli studenti e guardandoli determinante costruendo per loro un prima, un durante e un dopo un prima che deve far vedere il comune accogliere questi studenti un durante fornendo servizi e strutture un dopo fornendo attraverso la formazione degli studenti opportunità vere di lavoro Domenica prossima alle 9.30 il Comitato San Leone organizza l'incontro un caffè con i candidati tutti l'appuntamento al bar La Vela si tratta di un incontro volutamente informale per dare l'opportunità ai cittadini di conoscere meglio i candidati alle poltrone di consigliere comunale e sindaco in proposito vediamo l'intervista di Chiara Mangione Un caffè con i candidati puntini puntini tutti è il titolo originale ed è un originale confronto promosso dal Comitato San Leone che si terrà domenica mattina al bar La Vela e che è originale proprio perché non soltanto non verrà svolto insomma con i cronometri e con le tipiche organizzazioni da par condicio di questo momento ma anche perché è steso non soltanto ai candidati sindaco ma anche ai consiglieri comunali per parlare di San Leone ma anche di tanto altro Allora intanto sì l'invito è rivolto sia ai candidati sindaco che ai candidati consiglieri ed è un invito a un incontro non a un confronto perché i temi della campagna elettorale mi pare che si siano molto accesi tanto che qualcuno mi suggeriva che piuttosto che offrire il caffè forse avremmo dovuto offrire la camomilla ai signori candidati questo ovviamente è una battuta l'idea è quella di mettersi appunto al bar a discutere non dico quattro amici al bar ma quattrocento perché tanti sono all'incirca i candidati e incontrare i cittadini parlare di San Leone parlare di tante cose noi in quell'occasione proporremo un documento con delle cose che si possono fare su San Leone e chiederemo ai signori candidati di firmarlo dopodiché questo documento verrà ne sonoto si vedrà chi l'ha firmato chi non l'ha firmato e perché insomma speriamo di fare qualcosa per bene per il quartiere dicevo sarà un incontro informale niente domande niente 30 secondi niente pubblico zitto sarà un incontro semplicemente un incontro io spero che i candidati aderiscano in massa come sicuramente lo faranno gli agrigentini e i san leonini in particolare perché aderire a un incontro di questo genere fatto in maniera come dire assolutamente libera darà modo a tutti di dimostrare quanto sono amati per cui uno che va lì per essere eletto quindi presume di essere amato dalla gente cosa può sperare di meglio che trovarsi in mezzo alla gente quello che interessa i cittadini è ma a settembre quando saranno passati i 100 giorni un miglioramento ci sarà o saremo sempre diciamo con le difficoltà che viviamo per adesso? In riferimento ai programmi dei candidati a sindaco nel comune di Agrigento la Confesercenti recrimina la mancanza di risoluzioni programmatiche a favore della piccola e media impresa nessuno dei pretendenti la poltrona di sindaco ad eccezione di uno si legge nella nota mette tra i primi posti i problemi che stanno assillando la piccola e media impresa il settore viene tartassato sempre di più con tasse da paesi molto sviluppati e servizi da paesi in via di sviluppo al sindaco che andrà ad insediarsi conclude la nota la Confesercenti fa appello chiedendo l'istituzione di un tavolo tecnico permanente per il rilancio del commercio ad un impegno proficuo con degli interventi mirati atti a far ripartire l'economia della città non solo sindaci la campagna elettorale si combatte anche per i candidati consiglieri comunali sondaggio delle nostre telecamere per capire cosa pensa intanto la gente sull'operato dei consiglieri uscenti vediamo le interviste cosa pensa dell'operato dei consiglieri comunali fino ad oggi? beh sinceramente guardando in questi ultimi cinque anni le cose non sono andate molto bene guardando tutti gli aspetti sulla città sui giovani soprattutto e poi quasi tutto va andato tutto per il storto completamente non è che c'è stato qualcosa di buono non si è visto niente andiamo sempre indietro mai qualcosa di buono cosa pensa dell'operato dei consiglieri comunali fino ad ora? hanno operato bene o male? beh diciamo che hanno operato nei limiti delle loro possibilità se dobbiamo parlare poi delle possibilità sono delle possibilità molto basse ma guardi se io mi guardo in giro non è che vedo tanto di fattezze la strada le strade lasciano a desiderare parlo della viabilità in genere di Agrigento poi grande cose non abbiamo visto non è che abbiamo visto tutte queste grandi fattezze cosa pensa dell'operato dei consiglieri comunali attualmente in carica? non ne penso proprio nulla veramente no no non la seguo veramente ma secondo lei hanno operato bene o male per il bene della città? sicuramente male vedendo come è sicuramente male sì quindi proprio di più non voglio dire secondo lei i consiglieri comunali attualmente in carica come hanno operato per il bene della città? per me hanno operato abbastanza bene questi consiglieri di Agrigento non hanno fatto assolutamente niente ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria al rientro parleremo di barriere architettoniche alla Castagnolo Immu, Cronaca e tanto altro ancora a tra poco restate con noi evo 3 evolution i tuoi centimetri di troppo non sono più un problema tre energie di bellezza per regalarti il corpo che hai sempre desiderato adiposità localizzata inestetismi della cellulite micro lifting del seno linfodrenaggio vieni a trovarci la prova è gratuita estetica dimensione donna di Roberta Tutto lo Mondo via Vittorio De Sica 25B Agrigento telefono 0922 60 87 11 339 31 89 111 la materia lascia spazio alle emozioni costanza ceramiche nuova apertura in via Leonardo Sciascia 47 villaggio Mosè Agrigento costanza ceramiche ceramiche and design rieccoci nuovamente in studio l'archivio delle pratiche edilizie relative alla sanatoria sarà riorganizzato in modo da rendere l'iter più veloce è stato deciso con una determina del dirigente del settore pianificazione urbanistica del comune che dispone l'accorpamento delle pratiche in un unico settore in luogo dei tanti tecnici e consulenti esterni ai quali erano state affidate adesso il settore avrà sette servizi specifici urbanistiche edilizie centro storico lottizzazioni riordino urbano vigilanza edilizie e provvedimenti sanzionatori edilizia privata e residenziale ed altri ancora includendo quello della protezione civile pubblica in columità vera inoltre potenziata l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria nei locali della scuola media a Castagnolo l'amministrazione comunale di Agrigento ha illustrato i dettagli dei lavori di adeguamento e abbattimento delle barriere architettoniche di sistemazione dei servizi igienici e degli spogliatoi della palestra della scuola è messo un apposito decreto di finanziamento di circa 1.200.000 euro da parte dell'assessorato regionale delle infrastrutture utilizzando i fondi europei il comune può pertanto bandire la relativa gara per dare immediato inizio ai lavori è andato per noi Nino Ravana possiamo dirlo finalmente si elimina uno scempio finalmente restituiamo alla città la palestra Castagnolo abbiamo avuto finalmente il decreto di finanziamento della regione siciliana per 1.195.000 euro per il ripristino funzionale appunto della palestra della Castagnolo abbattimento di barriere architettoniche il rifacimento dei prospetti e soprattutto la messa in sicurezza si tratta di una struttura che è chiusa da più di 10 anni una struttura che è a servizio non soltanto della scuola ma che è messa nuovamente in funzione darà una boccata d'ossigeno importante a tutto il quartiere della via Manzoni e quindi potrà dare una boccata d'ossigeno importante anche a tutte le associazioni e le società sportive abbiamo lavorato da tempo su questo progetto abbiamo ricevuto tutti i pareri favorevoli finalmente siamo al momento finale dopo che oggi c'è stato comunicato questo decreto si farà il bando di gara entro 15 giorni e quindi l'aggiudicazione dei lavori e finalmente la consegna dei lavori per dare finalmente alla città una palestra importante in un quartiere assolutamente popolare e significativo della nostra città in effetti è un quartiere che ha una sua versatilità per lo sport perché c'è il campo sportivo c'è anche il palazzetto mancava questa palestra mancava per i ragazzi mancava per tutti noi che ce la ricordiamo da quando eravamo ragazzini e assistevamo alle grandi partite di pallacanestro ed è interessante proprio pensarla con questo futuro immediato e vivacissimo in un quartiere che devo dire in questi ultimi tempi non si è fatto riconoscere per episodi eccellenti quindi capiamo che la formazione passa proprio da queste prime fasi e lo sport insegna le regole forse più di qualunque altra disciplina avrà anche l'abbattimento delle barriere architettoniche eh questo è fondamentale perché è una delle poche scuole che ancora ha le barriere e quindi adesso avremo soprattutto a partire da settembre la necessità impellente perché abbiamo dei ragazzini che stanno in carrozzella che si iscriveranno in questa scuola a cui non possiamo dire no ovviamente e per cui occorre pensarle ma questo è vantaggiore per tutti noi perché a chi non capita di rompersi un piede di vivere anche solo per un mese il disagio di non poter bene accedere a un'istituzione pubblica regna ancora molta incertezza sul pagamento dell'IMU l'imposta municipale sui redditi i comuni sono in attesa del gettito che si avrà il 16 giugno data di scadenza della prima rata entro quella data si dovrà pagare il 33% circa che avere due rate rimanenti una a settembre l'altra a dicembre oppure pagarne a giugno il 50% e dover poi saldare un'altra soltanto con le prime due rate si pagherà in base l'aliquota del 4 per 1000 mentre per l'ultima rata c'è ancora incertezza saranno comuni a decidere l'aliquota e avranno tempo fino a settembre per varare il nuovo regolamento comunale per l'amministrazione comunale ed agrigento l'aliquota dovrà essere applicata solo dopo la stesura del regolamento comunale dati allarmanti emergono da un'indagine di Confindustria Sicilia secondo cui sono 601 le aziende fallite nel 2011 di cui solo 199 nel Palermitano da qui il capoluogo siciliano si classifica al primo posto come provincia più colpita della crisi negli ultimi due anni oltretutto nella nostra provincia si registra la cosiddetta assenza di ricambio per cui le aziende che chiudono non riaprono saracinesche che restano chiuse attività che non si alternano come accadeva prima a denunciare questo ed altro è la Camera di Commercio di Agrigento da Confindustria Sicilia quindi la richiesta alle banche di una maggiore attenzione per le imprese al legislatore di una riforma della legge fallimentare tutto questo viene confermato dalla corsa alla cassa integrazione e dall'aumento del 40% dell'uso degli ammortizzatori sociali passiamo adesso alla cronaca è di 600 milioni di euro l'importo delle fatture false scoperte in provincia di Milano dai finanzieri del comando provinciale Nino Ravana ci sono anche due agrigentini coinvolti nella max operazione della guardia di finanza del comando provinciale di Milano su un fasto giro di fatture false per un importo di 600 milioni di euro si tratta di un canicattinese o ravanusano fermati questa mattina dalle fiamme gialle della guardia di finanza di Agrigento gli altri arresti sono scattati nel paese di Gorgonzola dove sono state 13 le persone finite in manette e 5 denunciate per associazione a delinquere finalizzata la frode fiscale nel commercio di metalli ferrosi oltre 200 milioni di fatture per operazioni mai avvenute che hanno consentito di creare fonti neri reinvestiti nell'acquisto di società di immobili che nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati in tutta Italia insieme a conti correnti deposite e polizze vita altre 19 persone sono state arrestate ed altre 26 denunciate nel comune di Magenta qui finanzieri insospettiti dal tenore di vita dei soci di un'azienda che dichiarava redditi praticamente nulli hanno scoperto una frode per oltre 400 milioni di euro poi reinvestiti nello stesso illecito commercio di rottami metallici sotto sequestro sono finiti casali ville ed auto di grossa cilindrata ancora cronaca il giudice per le udienze preliminari del tribunale di Agrigento ha disposto il rinvio a giudizio di tutti gli imputati coinvolti nell'operazione antidroga denominata Ballarò Nino Ravana tutti rinviati a giudizio le 35 persone coinvolte nella vasta operazione antidroga Ballarò effettuata nel giugno del 2010 dai carabinieri della compagnia delicata lo ha deciso il giudice per le udienze preliminari del tribunale di Agrigento Luisa Turco che ha fissato per il 27 giugno prossimo la prima udienza del processo tutti gli indagati hanno scelto di essere giudicati con il rito ordinario sono chiamati a rispondere a vario titolo di spaccio di sostanze stupefacenti detenzioni di armi e munizioni estorsione ricettazione furto e tentato omicidio complessivamente furono 124 le persone coinvolte nell'inchiesta della procura della Repubblica di Agrigento molte delle quali di Licata ma gli arresti vennero eseguiti anche a Sommatino Palermo Seveso in Germania secondo gli inquirenti gli spacciatori di droga si rifornivano a Palermo nel nord Italia in Germania dall'indagine è emerso che alcuni degli indagati rubavano l'acqua dal depuratore di Licata per coltivare la marijuana farla crescere rigogliosa e poi piazzarla sul mercato dello spaccio ad alcuni viene contestato anche il reato di furto aggravato dalle condotte idriche del Licatese ad altri infece è stato contestato il condizionamento delle elezioni amministrative di Licata perché attraverso minacce chiedevano di votare un consigliere comunale poi non eletto nella passata legislatura accusati di tentato omicidio infine un padre e i suoi due figli perché per aver campo libero sul mercato dello spaccio avrebbero massacato di botte un loro avversario Cambiamo decisamente argomento continua ad Agrigento il progetto dell'automobile Club d'Italia Sportello a domicidio un nuovo servizio gratuito per le fasce più deboli della popolazione l'iniziativa rientra nel progetto ACI per il sociale ed è riservata alle persone diversamente abili non deambulanti e malati lungodeggenti e detenuti in istituti di pena o agli arresti domiciliari con il ricorso alla tecnologia telematica in tempo reale l'ACI espleta a casa del cittadino con gravi difficoltà fisiche a spostarsi o presso la struttura dove è ricoverato qualunque formalità legata alla vita del veicolo dal trasferimento di proprietà alla radiazione del mezzo dalla pratica per la successione ereditaria al rilascio del duplicato del certificato di proprietà le uniche spese sono relative ai costi previsti dalla normativa vigente per l'espletamento delle formalità per richiedere il servizio è sufficiente contattare l'ufficio provinciale ACI Pradi Agrigento al numero 0922 46 97 27 oppure 0922 46 97 29 ed inoltre collegandosi all'indirizzo internet www.up.aci.it barra Agrigento da oggi è possibile ottenere maggiori informazioni sulla rilevazione dei consumi idrici nei vari comuni in cui Girgenti Acqua e Spa gestisce il servizio idrico sul sito www.girgentiacque.com nell'area lettura del contatore nel tuo comune l'area suddetta indica in quali comuni è in corso programmazione la lettura dei contatori in modo che gli utenti possano lasciare libero lo spazio riservato al contatore e consentire dunque un'agevole lettura degli incaricati dell'Aipa Spa a tal proposito gli incaricati dell'Aipa sono provvisti di tesserino e muniti di documento di riconoscimento e non sono in alcun modo autorizzati a richiedere somme di denaro agli utenti e in ogni caso non è possibile effettuare pagamenti in contanti a Girgenti Acque nel caso in cui durante il ciclo di rilevazione delle letture non sia stato possibile leggere il contatore l'utente può comunicare la lettura online collegandosi al sito www.girgentiacque.com linea alla regia arriva alla pubblicità noi ci ritroviamo subito dopo a tra poco non mancate la materia lascia spazio alle emozioni costanza ceramiche nuova apertura in via Leonardo Sciascia 47 villaggio Mosè a Grigento costanza ceramiche ceramiche and design NC Auto nuovo ed usato di Nuccio Castronovo da NC Auto sono disponibili vetture di tutte le marche usate aziendali o semestrali trattiamo solo auto di provenienza nazionale con finanziamenti personalizzati con prima rata dopo 90 giorni perché comprare nuovo quando puoi acquistare una buona auto aziendale vieni a trovarci con il tuo usato NC Auto l'usato di qualità Bentornati nuovamente in studio Valle dei Templi Tax Free è il nuovo brand a cui il distretto turistico Valle dei Templi sta lavorando e che sarà sottoposto all'approvazione del prossimo comitato esecutivo il progetto promette di creare un piccolo ma significativo vantaggio competitivo nei confronti delle altre destinazioni siciliane l'idea tra ispirazione dalla recente polemica scaturita a Taormina e in altre città siciliane dall'imposizione della tassa di soggiorno che a detta degli operatori taorminesi è per loro un insostenibile balzello l'area del distretto turistico Valle dei Templi con i comuni aderenti verrà invece proposto con un bollino di destinazione Tax Free che le consentirà di recuperare un po' di competitività presso i singoli viaggiatori e presso i tour operator il fatto che Agrigento e l'area del distretto Valle dei Templi sia purtroppo divenuta negli anni una destinazione turistica troppo debole per rendervi applicabile la tassa di soggiorno infatti la rende oggi paradossalmente un po' più competitiva di altre realtà nelle quali l'avidità delle amministrazioni comunali ha trovato spazio per poter prevalere sugli interessi del comparto turistico proseguono in città le iniziative organizzate in occasione della quattordicesima settimana edizione della settimana della cultura il comune per questo evento programmato dal ministero per i beni e le attività culturali dal 14 al 22 aprile in collaborazione con il parco archeologico e pesaggistico Valle dei Templi invita la cittadinanza alle molteplici proposte che hanno come finalità la promozione del nostro patrimonio monumentale nonché quella di avvicinare gli agrigentini alla scoperta dell'immensa ricchezza culturale tra gli eventi ieri sera all'interno dell'ex collegio dei Filippini un concerto di musica da camera dal titolo Il romanticismo tra virtuosismi e ricerca espressiva un duo clarinetto pianoforte con i musicisti Roberto Sacca e Rita capo di casa la comunità ecclesiale di Siculiana porge più affettuosi auguri a padre Pasquale Pinzarrone per il suo novantesimo compleanno per i 65 anni di sacerdozio e per i 50 anni di apostolato a Siculiana sacerdote con la S maiuscola si è sempre distinto per la sua autentica vocazione orientando tutti verso le più grandi virtù per affermare valori contro e disvalori ha insegnato ad avere fede nel Signore ed avere speranza per andare avanti con coraggio ed essere forti nell'affrontare le difficoltà quotidiane nell'aula Silvia Pellegrino questa mattina si è tenuto un workshop sulla comunicazione organizzato da Ilal Sicilia ente di formazione professionale per i dipendenti provinciali che hanno contatto con il pubblico la comunicazione come mezzo per migliorare il rapporto con i cittadini e il pubblico nonché come strumento di promozione del territorio è stato l'argomento centrale domenica nuova raccolta del sangue attraverso gli appuntamenti della donazione dell'ADAS un'emoteca sosterrà davanti la parrocchia Madonna della Catena di Villa Seta dalle 8.15 alle 12.15 e un'altra camastra davanti la Chiesa Madre alla stessa ora nel frattempo sempre nella mattinata di domenica al Circolo del Nobile di Via Tenea si terrà l'Assemblea Generale dei Soci dell'ADAS Passiamo adesso allo sport due arbitri CAE designati per altrettante gare molto importanti ai fini della classifica si tratta di Francesco Cerami della sezione di Rieti che dirigerà lo scontro o salvezza Folgore Castellammare e Davide Miele di Torino chiamato per il derby San Giovanni Gemini atletico Campofranco per la grande festa di Ribere in programma al Nino Novara un direttore di gara Agrigentino Francesco Scibetta della sezione di Agrigento Sabato prossimo a Ribera nella sala consigliare alle 18 si celebra la giornata dello sport molti degli sportivi crispini che si sono distinti nelle varie discipline che verranno premiati dalla locale amministrazione comunale targhe o neodificenze per 5 categorie si tratta dell'Under 14 Over 14 Under 25 Over 25 premio alla carriera premio allo sport e sociale bene è tutto prima di salutarvi vi ricordo che questa sera alle 21.15 va in onda una nuova puntata di Salotto Biancazzurro condotta da Carmelo Lentini che avrà ospite le squadre del Milena Calcio della nuova Villa Seta Molte le interviste con i protagonisti e le riprese di gioco effettuate durante la partita svoltasi mercoledì scorso allo stadio Esseneto con il successo degli ospiti nisseni per 0 a 3 replica della puntata domani alle 15 e 45 è davvero tutto io vi ringrazio per essere stati con noi vi lascio al medio a tutti un buon proseguimento di giornata arrivederci i nostri migliori saluti e vediamo le previsioni meteo al sud è giornata stabile con tanto sole salvo velature di passaggio dobbiamo però segnalare addensamenti tra la Campania e la Calabria Tirrenica con possibili piogge o brevi rovesci questi saranno favoriti dai venti ancora occidentali generalmente moderati clima gradevole ovunque un saluto da Andrea Falcinelli ilmeteo.it